Vedete che cos'è il sacerlo di San Mamante? È un capitello votivo situato dopo l'azienda metallomeccanica Rassalduso, lungo la via Monte Grappa. L'oratorio di San Mamante è un luogo cultuale dotato di una torre campanaria che è stato in passato un punto di riferimento alla circoscrizione parrocchiale vedelaghese. L'oratorio di San Mamante ha delle radici diciamo molto lontane, nel senso che la prima citazione della pieve campestre risale ad una bolla papale di un pontefice. Si parla del 1230 più o meno. La cappella era in mare al monastero nervesano che diciamo viene chiamata Abbazia di San Nostacchio, così come la parrocchiale Sant'Agata Fossalunghese era feudo dell'abbazia del monastero nervesano che a sua volta era in mano al nobile casato dei Collalto e il capitello si trova quindi in mano ai francescani. Poi per un certo periodo di tempo la cappella viene edificato nelle parti limitrofe della cappella anche un ospizio che ospiterà anche francescani. E poi in seguito con le campagne napoleoniche, con la dominazione di Napoleone nell'Italia settentrionale viene presa in mano dell'esercito francese e viene poi ridata agli austro-ungheresi, cioè agli austriaci. Il trattato di Campoformio del 1797, Napoleone Bonaparte, cede la Repubblica di Venezia determinando la caduta della Serenissima all'austro-ungheria, quindi alla dinastia sborgica. Poi quando non è più stata in mano dell'abbazia nervesana non ci sono state più attestazioni, più testimonianze documentarie che certificavano la presenza della cappella votiva dell'edificio cultuale nel territorio di Vedelago. Non si conosce questo oratorio nel XV secolo e nel XVI secolo, appunto in ragione del fatto che non ci sono attestazioni che certificano la sua presenza edificato ecclesiastico. In seguito ci saranno anche visite pastorali di illustri vescovi della Curia Vescovile Trevigiana e alla fine, dopo, verso il finire dell'Ottocento, quindi siamo l'ultimo ventennio dell'Ottocento, a Vedelago si verifica una peste di colera, oltre che la pellagra e oltre che il tifo che hanno scampato un po' tutta la popolazione vedelaghese. Il parroco di Vedelago, a suo tempo, inoltre, una richiesta al vescovo di Treviso per ospitare nell'edificio cultuale, diciamo, adibirlo a Lazzaretto per i colerosi, perché a Vedelago si verifica alla fine dell'Ottocento, più o meno l'ultimo trentennio, ventennio dell'Ottocento, si verifica un'epidemia di colera e la pellagra anche. La cappella votiva, al suo interno, presenta un piccolo presbiterio, poi un banco, diciamo, marmorio, con alcune statue, soprattutto Samamanti, che è stato il patrono, appunto, della località omonima nel comune di Vedelago, un martire bizantino e l'edificio, il prospetto della cappella, si presenta con una facciata a capanna, con due spioventi, con un piccolo rosoncino centrale incorniciato all'interno di un timpano che a sua volta è inserito all'interno del più generale frontone. Nella parte sommitale del frontone è presente una piccola croce, ora un po' ammalorata, nel senso che sia un po' ossidata, e in lontananza soprattutto si vede la ruggine, e annesso a questo edificio c'è anche una torre campanaria costituita da una cella campanaria con delle campane che sono state poi inserite nel corso degli anni e nel corso della storia. Il portone d'ingresso dell'oratorio si presenta impostato sull'arco a sesto acuto, con dei inserti modanati sulle parti laterali, in corrispondenza delle parti laterali del portone d'ingresso, e nella parte sommitale dell'arco a sesto acuto che costituisce il portone medesimo. Una cosa che a me preme di puntualizzare, di sottolineare, è l'importanza di una rettoria come l'oratorio di San Mamante nel nostro territorio, nelle nostre località. Importante sarebbe riqualificare il fabbricato cultuale e valorizzarlo, modernizzarlo, ridargli nuova vita, nuovo valore, nuovo spessore, nuovo rilievo per i vede laghesi, per tutta la comunità, per il benessere della cittadinanza.